Vediamo in questo filmato come è semplice aprire un menu digitale creato con buonmenu.com L'utente del ristorante seduto al tavolo può semplicemente inquadrare un QR con la videocamera quindi apre l'applicazione Camera per esempio su Android inquadra il QR, questo è un menu di esempio e fa clic per aprire il menu si apre, direttamente non è necessaria nessuna installazione assolutamente non è necessario nessun download precedente si arriva direttamente sul menu che come vedete si presenta in maniera assolutamente professionale, bellissima qui potete scorrere i vari menu del ristorante per esempio abbiamo aperto il menu del giorno potete navigare velocemente le varie categorie e potete appunto sfogliare il menu quindi vi consiglio veramente di provare buonmenu.com che è semplicissimo e facile da aprire per l'utente grazie a tutti grazie a tutti